La necessità di aumentare la sicurezza continuano a produrre effetti sulla nostra vita di tutti i giorni. Tra poco una novità con cui dovremo iniziare ad avere familiarità. Il nuovo anno potrebbe alleggerire ulteriormente il portafoglio degli italiani, ma per una volta senza prelevare un euro. A sparire potrebbero essere i documenti tradizionali, patente, tessera sanitaria, carta d'identità, che migreranno nell'IT wallet, un portafoglio appunto virtuale che dovrebbe vedere la luce nella prima metà del 2024, almeno come prototipo, semplificando così il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Come indicato dal PNRR, il nostro paese deve spingere l'identità digitale. L'obiettivo è farla arrivare a 42 milioni e mezzo di italiani entro il 2025, ma i dati sugli ultimi mesi mostrano un rallentamento della migrazione ai documenti immateriali. 36 milioni e 400 mila cittadini maggiorenni sono già dotati di SPID, mentre la carta d'identità elettronica CIE, disponibile anche per i minori, è in uso da 39 milioni e 300 mila utenti. Il governo si è detto a favore soprattutto dei sistemi gestiti dallo Stato, come appunto la CIE, mentre per lo SPID sono coinvolti pure soggetti privati. Se non si dovesse arrivare alla soppressione di quest'ultimo, è probabile che si opterà per la convivenza di entrambi i sistemi all'interno dell'IT wallet, un progetto che nascerà dalla già funzionante app Io e che risponderà alle indicazioni dell'Unione Europea sulla digitalizzazione dei documenti.